Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale dell'Umbria. Questa la sintesi della seduta d'aula di martedì 12 gennaio 2021, nella parte dedicata alla question time, il consigliere Andrea Fora, patocivico per l'Umbria, ha chiesto all'assessore Enrico Melasec aggiornamenti rispetto alla realizzazione del nodo di Perugia, ha domandato i tempi e le modalità di realizzazione del tratto del nodo annunciato lo scorso 26 novembre, quali sono le intenzioni della giunta rispetto alla realizzazione dell'intero nodo di Perugia da Collestrada a Corciano, passando per Madonna del Piano, Pila e Castel del Piano, quali azioni intende la regione intraprendere e se ritiene utile promuovere ed attivare un confronto partecipato e costruttivo con le realtà locali, gruppi di cittadini ed associazioni. L'assessore Melasec ha assicurato che il nodo di Perugia rappresenta uno dei più importanti obiettivi che la giunta intende conseguire. Insieme al presidente Tesei, ha detto l'assessore, abbiamo contattato il ministro e l'ANAS. Abbiamo tirato fuori dai cassetti il progetto preliminare donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e dopo il via dall'ANAS è stato finanziato il progetto complessivo. In questi giorni l'ANAS sta provvedendo a studi attraverso aereofotogrammetria. Lo stralcio nodino che andiamo a realizzare, ha detto Melasecche, ridurrà del 25% il traffico nella tratta prevista. Rispetto al traffico pesante arriva circa il 30%. In contemporanea si lavora sulla progettazione del secondo stralcio per arrivare al Silvestrini e a Corciano, alleggerendo il traffico che oggi rappresenta un problema e un reale pericolo, oltre all'inquinamento per la città. Abbinato a questo progetto, ha concluso Melasecche, c'è anche quello che mira ad organizzare un'altra corsia fino alla Galleria dei Volumni, al fine di accorciare ulteriormente le code. I consiglieri del gruppo PD, Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porsi, hanno chiesto alla presidente della giunta regionale, Donatella Tesei, di conoscere quali sono i dati esatti e gli indicatori sulla base dei quali la presidente e gli assessori hanno sostenuto, in occasione della conferenza stampa di fine anno, di aver rimesso in moto l'Umbria in un anno e che dimostrino quali gli effettivi miglioramenti rispetto all'anno precedente per ogni settore di competenza regionale. La presidente Donatella Tesei ha detto di provare sconcerto per quanto scritto nell'interrogazione. Pensavo, ha osservato, che la polemica social sull'argomento fosse il solito momento di colore, invece ne è nata un'interrogazione. Ho fatto verificare al mio portavoce i dati forniti nella conferenza stampa e una verifica di ciò che è stato pubblicato in seguito. Mi sono resa conto che è difficile spiegare una dichiarazione che non è mai stata fatta. Non abbiamo mai detto che l'Umbria è stata rimessa in moto in un anno. Il problema non sono i dati di oggi, ha detto la presidente Tesei, ma quelli terribili del periodo precedente all'emergenza sanitaria. L'Umbria anti-pandemia era già in una situazione difficile, così difficile che sarebbero stati necessari cinque anni per iniziare ad avere qualche dato positivo. Il consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico ha chiesto all'assessore Roberto Morroni le intenzioni della Giunta circa l'opportunità di prendere provvedimenti al fine di allungare il periodo di autorizzazione al predievo di capi della specie cinghiale fino almeno a tutto gennaio 2021 e, se non ritenga opportuno inoltre, pensare a provvedimenti specifici da attuare nella stagione 2021-2022 volti ad una riduzione dei costi di abilitazione all'attività venatoria a ristoro dei costi sostenuti dai cacciatori nella stagione attuale a fronte delle forti limitazioni subite. L'assessore Morroni ha risposto che sul finire dello scorso anno gli uffici regionali hanno avanzato richiesta di parere all'ISPRA per avere l'avallo riguardo l'allungamento del calendario fino al 31 gennaio per il prelievo specie cinghiale. L'auspicio, ha detto l'assessore, di poter procrastinare il calendario al 31 gennaio, oltre non è possibile. Per quanto riguarda la seconda questione, di fronte a una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo, ha spiegato Morroni, la giunta valuterà quali provvedimenti eccezionali mettere in campo per derogare rispetto a un percorso che prevede dinamiche per le squadre dei cinghialisti. Siamo consapevoli, ha concluso Morroni, che a situazioni straordinarie si risponde con provvedimenti straordinari. Dopo la sessione dedicata alle interrogazioni e risposta immediata, l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha avviato la seduta con le comunicazioni della Presidente della Giunta, Donatella Tesei, sull'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. All'intervento della Presidente ha fatto seguito quello del portavoce delle opposizioni, Fabio Paparelli, del Partito Democratico. La Presidente Tesei ha rimarcato che sono 4.000 i positivi al virus, con l'indice RT all'1% e tasso di mortalità del 2,14%, quindi nella media nazionale. La Presidente ha spiegato di un carico significativo per le strutture ospedaliere, pur avendo ulteriori posti Covid di terapia intensiva attivabili. Purtroppo, ha detto, abbiamo dovuto procrastinare la ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole superiori al 25 gennaio, nonostante fossimo pronti, anche con trasporti adeguati, a consentire la ripresa al 50%. Rispetto ai vaccini, ha evidenziato che l'Umbria è la prima regione italiana per percentuali di somministrazione, con una capacità giornaliera di oltre 1.500 somministrazioni. Di dosi ne servono quante più possibile, visto che siamo in grado, ha detto, di somministrarne più di quanti ne arrivano. Rispetto agli ospedali, ha detto la Presidente Tesei, partiamo da quello da campo di 2.000 metri quadrati, con 12 posti di terapia intensiva, 10 di subintensiva e 10 di degenza Covid, con possibilità di ampliamento per ulteriori 10 posti. I potenziamenti vedono altri 10 nuovi posti di terapia intensiva a Terni e 8 nuovi a Perugia, già realizzati. Inoltre, sono stati finanziati dal governo 8,2 milioni di euro per 44 posti di terapia intensiva in prefabbricati collegati con gli ospedali, più 157 realizzati da noi, ha detto la Presidente, che ci consentiranno di smantellare 18 posti di terapia intensiva negli ospedali perché siano dedicati ad altre patologie. Il totale complessivo delle terapie intensive in Umbria sale a 183. Per quanto riguarda la carenza di personale sanitario, la Presidente ha annunciato un incontro per la giornata successiva con i sindacati di categoria. Rispetto al Recovery Fund, la Presidente Tesei ha sottolineato la mancanza di una risposta definitiva sul ruolo delle regioni e di un'impostazione centralistica. Su un totale di 209 miliardi, solo 82 sono per nuove progettualità, perché 127 miliardi di prestiti sono per opere già previste per non aumentare lo stock di debito pubblico. Le regioni non hanno attualmente, ha detto una quota da gestire autonomamente. Tutti i presidenti delle regioni ritengono utile che una parte delle risorse sia loro affidata e poi vi siano progetti in accordo con quanto viene stabilito dalla conferenza Stato-Regioni. Il portavoce dell'opposizione, Fabio Paparelli, ha definito vuota la disponibilità e confronto con le opposizioni. Annunciato quindi la presentazione di una proposta di risoluzione per mettere in calendario confronti pubblici allargati nelle sedi istituzionali per continuare al meglio il confronto avviato. Sulle bilancio, sulle agenzie e sul personale, ha detto Paparelli, non è stato fatto nulla. Sulla gestione dell'emergenza Covid assistiamo ad una mancanza di programmazione. Resta da chiarire la scelta dell'ospedale da campo, così come quella dei fornitori dei test rapidi. Sarebbe stato necessario potenziare la sanità pubblica, ma non è avvenuto. Le assunzioni sono state pochissime e i nostri anestesisti sono andati a lavorare altrove. Avete investito, ha detto ancora Paparelli, per istrutturare cliniche private e non gli edifici pubblici. Alle critiche al governo avete alternato una sostanziale inerzia. Sulla scuola, ha stigmatizzato Paparelli, avete accumulato un colpevole ritardo senza attivare bus aggiuntivi che avrebbero permesso trasporti sicuri e un reddito alle aziende private di trasporto. Se vogliamo davvero avere un ruolo nel recovery, dovete portare in aula i progetti dell'Umbria, promuovendo condivisione e partecipazione. Sul tema dei ristori, ha aggiunto Paparelli, sono stati dimenticati i commercianti e gli artigiani delle periferie. Avete annunciato l'elaborazione del piano sanitario, ma non è chiaro insieme a chi. Sulle strategie economiche per uscire dalla crisi, ha concluso Paparelli, non sono state fornite indicazioni e le categorie hanno bocciato il vostro DEFRE, il documento di economia e finanza regionale. Al termine di un lungo dibattito, l'Aula ha votato alcune proposte di risoluzione. La prima, firmata da tutti i consiglieri di opposizione, è stata bocciata, con gli otto voti favorevoli dei proponenti, nove voti contrari della maggioranza e l'assenzione del presidente Marco Squarta e della vicepresidente Paola Fioroni. Il testo chiedeva, tra l'altro, la convocazione della conferenza regionale Economia e Lavoro, un consiglio straordinario per affrontare il piano di riapertura delle scuole, le linee del piano vaccinale, le priorità del piano pandemico e le scelte relative al piano assunzioni nella sanità. Approvata, con il solo voto contrario di Valerio Mancini della Lega, l'altra risoluzione, firmata dai consiglieri di opposizione, che prevede iniziative a sostegno di una campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione in Umbria. Infine, dall'unificazione di due atti di indirizzo, è scaturito un nuovo testo, firmato da tutti i capigruppo e approvato l'unanimità, che chiede all'esecutivo di attivarsi presso il governo nazionale, affinché i medici specializzanti ricevano il bonus Covid e siano inseriti nella lista prioritaria del piano di vaccinazione. I lavori dell'Aula sono proseguiti con la trattazione di alcune mozioni e proposte di risoluzione. Approvata, con 13 voti favorevoli di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Tesei per l'Umbria e Bianconi, gruppo misto, e un astenuto fora del patto civico per l'Umbria, la mozione è presentata dai consiglieri Marco Squarta e Leonora Pacio di Fratelli d'Italia, riguardante l'ampliamento dell'offerta di prestazioni e servizi che, sulla scorta di un progetto personalizzato basato sulla libertà di scelta, rafforzi il sistema di protezione sociale di cura delle persone con disabilità e o non autosufficienti e ne permetta la permanenza nel proprio domicilio. Per la minoranza, il consigliere De Luca ha presentato alcuni emendamenti che non sono stati presi in considerazione, perché senza il consenso dei proponenti. Per questa ragione, il Partito Democratico ha rinunciato a presentare emendamenti e non ha partecipato al voto, come anche il Movimento 5 Stelle. Approvata all'unanimità, la mozione dei consiglieri regionali Stefano Pastorelli e Paola Fioroni della Lega, che impegna la giunta di Palazzo Donini a riprendere un percorso di dialogo politico con tutti i vertici istituzionali nazionali, al fine di riconoscere la ricorrenza del 4 ottobre, data in cui si festeggia San Francesco d'Assisi, santo patrono d'Italia, quale festività nazionale pertanto da inserire nel calendario tra i giorni festivi. L'Assemblea legislativa dell'Umbria, su proposta del capogruppo della Lega Stefano Pastorelli, che ha trovato l'assenso dello stesso promotore della mozione Andrea Fora, patto civico per l'Umbria, ha rinviato in seconda commissione l'atto concernente la riperimetrazione dell'area Parco Montecucco, che mirava ad impegnare la giunta regionale ad attivare tutte le procedure ancora necessarie per riuscire a dare seguito, entro i primi mesi del 2021, alle richieste unanimemente avanzate negli anni dalle quattro amministrazioni locali interessate dell'area del Parco, che pur salvaguardando pienamente e con determinazione la ricchezza naturalistica del territorio, intendono farne anche elemento di valorizzazione e sviluppo delle comunità locali. Approvata con 11 voti favorevoli della maggioranza, non hanno partecipato al voto Bori, Bettarelli, Porzi del PD e Morroni di Forza Italia, una mozione promossa dai consiglieri della Lega, Nicchi, Pepucci, Carissimi, Mancini, Pastorelli, Rondini e Fioroni, che chiede di colmare il vuoto legislativo relativo all'abilitazione per le guide turistiche. L'atto impegna la giunta finché diventi parte attiva e propositiva con il governo per chiedere al Parlamento di emanare al più presto una legge che riempie il vuoto normativo in tema di abilitazione professionale delle guide turistiche e consentire in questo modo anche alle regioni di adeguare la propria normativa in materia e quindi poter definire un nuovo regolamento che disciplini le modalità di abilitazione alla professione. Approvata all'unanimità una proposta di risoluzione che impegna la giunta a prevedere azioni per il pieno sostegno all'eccellenza ceramica Umbra, centro del sistema ceramico italiano. L'atto, d'iniziativa di Michele Bettarelli PD e poi condiviso da Francesca Pepucci della Lega, era già stato discusso in aula lo scorso 26 maggio e rimandato in commissione per una più ampia discussione. Illustrando l'atto in aula, il relatore Bettarelli ha ricordato che la risoluzione impegna la giunta a salvaguardare la ceramica artistica tradizionale come patrimonio culturale identitario del territorio regionale, oltre a rappresentare un patrimonio culturale economico umano del nostro paese. Approvata all'unanimità una risoluzione unitaria della seconda commissione che richiede all'esecutivo regionale di intervenire per la razionalizzazione e il potenziamento del personale destinato alla ricostruzione post-sisma 2016. Come ha spiegato Vincenzo Bianconi, vicepresidente della commissione, la risoluzione mira ad impegnare l'esecutivo a concludere nel più breve tempo possibile la procedura selettiva già avviata per il reclutamento di personale da utilizzare presso l'ufficio speciale ricostruzione, a rivedere la distribuzione delle risorse umane assegnate in fase emergenziale ai comuni e alle province, concentrare le risorse umane che si occupano della ricostruzione privata nella sede dell'ufficio speciale per la ricostruzione di Foligno e di Norcia e quelle che si occupano di ricostruzione pubblica presso gli uffici regionali di Perugia. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! 華Solo mone catch�! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Moderna sulle superficie in ilистico uffici regionali di Perugia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!